bella ragazzi oggi da spider pork vi da benvenuto in questo terzo episodio di gameplay di un comune mortale e oggi andremo a giocare con il nostro mitico mp tutti contro tutti bene tutti contro tutti non so perché ho scelto stavolta volevo e va bene ok volevo cambiare un po e vedere com'è questa modalità visto che non ci ho giocato almeno due volte devo vedere come mi trovo qui dentro con il coltello è bravo ragazzi bravo anche un problema che non riesco a capire perché gioco a 43 pp non sono stato abbastanza attento va bene zio bonus questa partita mi sa che andrà male andrà malissimo che culo ah ora me la parlo è una cosa odiosa quei giocatori la che utilizzano le doppie armi va bene utilizzalo come l'ultima risoluzione quando stai per morire ma basta usarla everywhere che pezzo di merda volevi volevi potermi eh certo tutti quanti adesso andranno a poter farlo va bene utilizza pure i coltellini ma se le persone ti compaiono da dietro come cazzo si fa va bene ancora lui zio bonus oh ah sfigato di bonus camperemo un po' quanto vi odio ora ora me la paghi bastardo e no no certa gente non sa proprio tamperare zio bonus quanto rompi i coglioni bastardo stronzo non voglio dire altre parolacce se no mi hanno già detto che ne dico troppe e vabbè ci stanno battendo o vuoi che ci stanno battendo e vabbè zio bonus mi sa che tutti contro tutti non è per me e da lontano l'arma fa schifo ma che è meglio non andare contro di lui e ma attenta dove sbuchi zio bonus adoro questa adoro eh va bene ok ok qui ho sbagliato io chissà dove saranno eh va bene ultima speranza certo è proprio la cosa più odiata di call of duty e le ricompense per la tua morte più muori certo vabbè 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 sono arrivato terzo almeno ragazzi qui ci dobbiamo salutare per questa terza puntata visto che qui non riusciamo a giocare smetterò di giocare questa cazzata qua mister and into the ambitious loose ma che stai ma vaffanculo vabbè dai ragazzi ciao 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 ciao